ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi finalmente dopo questa lunga pausa estiva dove avete visto che sono stati settimane in cui non ho caricato niente c'è stato qualche video che avevo pre registrato perché per me è stata un'estate pazzesca sono successe un sacco di cose purtroppo non sono riuscita a star dietro a registrare tanti video però adesso inizio settembre ricomincia un nuovo anno accademico diciamo e quindi avrò un po più tempo per registrare per tornare ad essere costante ho già in mente di fare tantissimi video già tantissime idee che spero che vi piacciono insomma e bene ricominciamo con un super haul sarà un haul tutto fashion di vestiti e qualche accessorio che ho comprato durante i saldi quest'estate e qualcosa già delle prime uscite delle nuove collezioni nei negozi bene direi di iniziare subito subito con gli acquisti del reparto sportivo perché ho finalmente ricominciato a fare un po di attività fisica seria mettiamola così tra virgolette e ho deciso di approfittare dei saldi per comprare qualcosina che potessi insomma motivarmi a fare ginnastica perché si dice che lo shopping è terapeutico e quindi anche fare shopping per fare ginnastica può essere una giusta motivazione per iniziare e ho trovato questi capi alla champions che è un marchio che uso da tantissimi anni quando ero più piccola compravo cose di questo marchio sportivo e mi sono trovata sempre bene e ho deciso di provare qualcosa nell'ambito più running che diciamo un po più professionale non so insomma vabbè vanno alle ciance e vi faccio vedere che cosa ho preso ho due top questo grigio che è una semplice t-shirt con la scritta champions grigia ed è scritta metallizzata è leggerissimo in tessuto che si può vedere tranquillamente credo la mia mano più o meno è molto traspirante è veramente veramente comodissimo come tessuto e l'altro top è di questi qui una canotta con sempre il logo e ha questa fantasia geometrica molto particolare mi è piaciuto tantissimo anche il tessuto è sintetico però l'ho già testata questa canotta mi sono trovata benissimo perché è molto traspirante comunque sia e mi è piaciuto molto anche il colore questo fucsia rosa da abbinare a questi leggings che ho trovato si abbina solo perfettamente sia con questo top che con quest'altro che sono neri e grigi della stessa fantasia della canotta sono leggings lumi che arrivano anche la zip arrivano la camiglia che sono molto molto comodi cioè veramente di una comodità tale che non li sento addosso ad esempio quando guardo sul tapirulano non mi sento addosso sono veramente molto comodi sono elasticizzati e sì è stato un investimento credo di aver pagato tutti questi tre capi meno di 50 euro sono arrivati a 50 euro che per l'abbigliamento sportivo è un ottimo prezzo perché non essendomi mai confrontata molto su questo mondo dell'abbigliamento sportivo un po più professionale diciamo non avevo un bene idea di quanto costassero mi sono meravigliata di quanto alcuni capi potessero costare quindi direi che è stato un investimento buonissimo questi tre capi poi faccio vedere due top che ho comprato da Zara e il resto delle cose che vedrete la maggior parte sono di Zara perché lo sapete lo dico sempre è uno dei miei negozi preferiti in assoluto e quest'anno si è veramente superato cioè sta continuando a superarsi io se entro dentro un negozio devo veramente trattenermi a stento da non comprare niente perché sono cose bellissime bellissime vi faccio vedere questo top che conoscerete tutti perché sui social è dalla primavera scorsa che gira ed è questo top di pizzo con il collo un po' alto la manica a metà, sì, la manica corta dietro è tutto trasparente con questa lavorazione di pizzo che è stupenda e l'ho preso con i saldi ma il problema qual è? qual è? che Zara l'ha tirato fuori per l'autunno-inverno anche in verde bottiglia e color carne e io sono tentata di comprarle anche in quei colori perché è un top veramente veramente bellissimo chicchissimo se vi piace il trend del momento del pizzo è un capo che non potete perdervi lo metto veramente con tutto da jeans alla gonna trender un po' più elegante poi sono gli accessori che creano anche, che fanno la differenza però veramente è un top che adoro e l'altro ovviamente sempre di Zara però della collezione nuova è questa camicia blusa di un bellissimo verde bottiglia adesso la fotocamera sfalsa un po' i colori però è veramente un verde acceso verde pino albero di Natale insomma per capirci ed è non so di che maturale sia molto leggero, ricorda quasi la seta ha il collo alto un po' arricciato e qui dietro si allassa con questa serie di bottoncini e ha una particolarità alla fine della manica, manica lunghe ci sono dei bottoncini e c'è questa perla che fa molto Gucci in questo momento Gucci per l'autunno-inverno ha piaciuto fare una collezione dove ci sono perle ovunque, scarpe, abiti, borse e questo dettaglio me l'ha ricordato molto e poi comunque sia... non lo so il mio stile sta transitando verso qualcosa di un po' più formale e elegante sto inserendo qualche capo un pochino più... non ricercato però un po' più formale appunto non so nemmeno io definirlo insomma e questa camicia mi è sembrata veramente veramente stupenda sarà un capo top del mio... del mio guardarò autunno-inverno poi ho due vestiti da farvi vedere il primo ho preso con i saldi su ASOS che ASOS lo stesso è diventato un'altra fonte inesauribile per me di shopping passo un sacco di tempo su quel sito a vedere i nuovi arrivi e quest'estate ho comprato questo vestitino che ha lo scollo bardo che è praticamente lo scollo questo qui a barchetta con una specie di rush qui davanti, non so come definirla che ci allungo tutto lo scollo ed è veramente un maxi maxi dress perché non finisce più è una tenda praticamente è lunghissimo, infatti se lo metto con i sandali bassi devo tirarlo su quando cammino perché striscia per terra e pulisco tutto però con un minimo di tacchetto anche se fossero 3-4 cm già va benissimo una striscia per terra di questa fantasia ha fiorellini molto carini il colore di base è blu-nevi fiorellini bianchi ed è veramente comodissimo è abbastanza stretto sottolinea la silhouette però è veramente molto molto pratico e l'ho messo spessissimo e contate che l'ho pagato tipo 12 euro veramente i saldi di ASUS sono una cosa imperdibile ragazze se non lo conoscete il sito andateci a dare un occhio e l'altro vestito che ho preso indovinate un po' dove da Zara ovviamente con i saldi è questo bellissimo vestito di pizzo che ha una stampa floreale su verde, arancio, corallo e questo arriva più o meno al polpaccio è abbastanza lungo mi sono innamorata di questo tipo di vestiti e da Zara ne hanno veramente milioni e li comprirei tutti ovviamente l'ho utilizzato quest'estate al matrimonio e ha veramente fatto la sua figurona niente, più dirvi è stato uno dei miei capi top per questo shopping estivo e lo metto qua adesso passiamo alla parte di cose di cui ne ho di più insomma che sono i top sotto le parti sotto come vi dicevo la parte dei capi sotto quindi pantaloni gonne è quella un po' più consistente non so perché sinceramente di solito tendo a comprare più top, camice e cose del genere invece questa volta ci sono andata sotto con i pantaloni soprattutto inizio facendo di vedere questo paio di jeans pantaloni normalissimi di un bel colore verde militare perché avevo dei pantaloni identici a questi praticamente di H&M che adoravo erano i miei pantaloni preferiti e mi ci sono strappati in un giorno così mettendoli in seduta bellissimo e ho trovato questi da un sito che si chiama FUX scritto X-O-No-X che è un sito che rivende capi di abbigliamento piuttosto costosi ci sono dei marchi veramente costosissimi non mi ricordo se ho visto anche cose di moschino o cose del genere per capirci e questo è di un brand che si chiama Maison Scotch che è la parte femminile in generale il brand si chiama Scotch & Soda però la parte femminile di questo brand si chiama Maison Scotch scusate se vi ho fatto confusione vi faccio vedere il logo dall'etichetta eccolo qua Maison Scotch del brand più grande Scotch & Soda che ho scoperto per caso me ne ha parlato un mio amico che è ossessionato da questo marchio e costa parecchio veramente un paio di jeans anche normalissimi come questi arrivano a costare sul centinaio di euro ma con i saldi estivi ho trovato questi jeans pensate a 23 euro e vi giuro non sto scherzando che sono se non i jeans tra i jeans più comodi che io abbia mai avuto in vita mia vi giuro è stato amore a prima vista intanto si sente il materiale è veramente ottimo e poi c'è molto rifinitura nei dettagli qui c'è una trama tipo tutta zig zag incrociato e anche qui sul ginocchio poi hanno hanno le zip no non c'era zip qui c'è il loro logo queste specie di fiore insomma si vede che sono molto ben rifiniti e di qualità insomma e mi è andata bene perché non avevo mai provato niente di questo marchio ma lo volevo provare tantissimo era l'unica taglia rimasta se non l'unico paio e fortunatamente andando abbastanza a caso e a fortuna ho preso la mia taglia perché cioè fortunatamente quella rimasta era la taglia che mi stava bene la mia solita quindi straconsigliati strapromossi non vedo l'ora di indossarli ah e probabilmente questi li vedrete nel lookbook autunnale che farò più avanti perché avevo intenzione di fare un video haul con in cui anche trovavo gli estivi però mi è andata in mente piuttosto che farli vedere direttamente su durante il haul perché non fare un lookbook autunnale e quindi credo che sia una fantastica idea non perdetevelo mi raccomando arriverà tra un po' e quindi si molti di questi vestiti li vedrete probabilmente in azione nel lookbook poi un altro paio di pantaloni sono questi di Zara della nuova collezione e sono queste culotte come si chiamano adesso non sono pantaloni palazzo perché i palazzo arrivano proprio fino di fondo alla caviglia a fondo a piede questi sono quelli a tre quarti che praticamente arrivano a metà colpaccio il suono di questo tessuto che mi ricorda molto il raso perché è molto soffice e anche molto lucido la stampa qua è veramente carinissimo ho faticato a trovare un paio di questi pantaloni di questo modello che mi stessero bene e che non mi facessero sembrare una palla non sto scherzando non so quanti modelli ho provato quest'estate perché volevo tanto un paio di pantaloni di questo modello insomma di questi corti e larghi come vanno adesso ma non riuscivo a trovare assolutamente e Zara finalmente ha risposto alle mie preghiere e questi sono veramente perfetti e se non sbaglio li ho pagati intorno a una ventina di euro sicuramente sul sito sicuramente ma probabilmente anche nei negozi li troverete perché li ho comprati ad inizio agosto quando li avevano appena messi fuori e quindi straconsigliati poi altro paio di culotte ma questa volta un po' più corte rispetto a quelle di Zara queste arrivano praticamente appena sotto al ginocchio e queste più che culotte è proprio una gonna a pantalone perché quasi non si nota che sono dei pantaloni e questi sono del marchio Only se non sbaglio sì che ho comprato in un negozio sempre questi li ho presi scontati con i saldi li ho pagati circa 15 euro hanno la zip dietro e hanno anche un bottone quindi quello era il retro che sono davanti hanno questa stampa bellissima con questi fiori sul rosso beige e viola con fondo blu che sono erano nei saldi quindi erano della collezione primavera-estate ma con questi colori per me sono perfetti per l'autunno sicuramente fino ad ottobre li metterò tranquillamente anche senza calze il tessuto è molto li ho messi anche quest'estate perché è molto leggero non ti si appiccica assolutamente addosso e niente è stato amore a prima vista e l'ultima cosa che vi mostro è questa gonna questa qui molto carina molto come dire non lo so insomma sto vaneggiando nonostante ciò è anche un caldo allucinante ancora io mi spino a tenere i capelli sciolti perché li ho appena lavati e era un peccato quando mi lavo i capelli e dopo li devo tirarsi subito non ho ancora un cavallo è di un materiale molto simile a quello dei pantaloni che vi ho appena mostrato questo però l'ho preso sul sito di Miss Selfridge se sbaglio sì esatto Miss Selfridge che è un negozio che è una compagnia inglese uno dei miei negozi preferiti in Inghilterra che ovviamente spedisce anche online e queste gonne midi sotto al ginocchio molto svolazzanti si trovavano dappertutto quest'estate è stato uno dei trend maggiori e credo che anche per l'autunno e inverno continuerà ovviamente con colori e materiali diversi però l'ho cercata tantissimo una gonna del genere è molto carina con appunto questa è perfetta per la primavera con questi colori è un bianco panna di fondo con questi che sembrano fuori di ciliegio o mandorlo insomma sul beige rosa c'è una punta di verde di castello ed è veramente veramente carinissima un sacco mi hanno fatto i complimenti per questa gonna è una nostra innamorata e niente questo è stato un grandissimo affare dell'estate e concludiamo con due accessori che sono due borse ebbene sì tipo per mesi e mesi non mi sono comprata una borsa assolutamente e questa volta durante i saldi durante questi mesi ne ho proprio che ben due ovviamente entrambe di indovinate un po' tre due uno di Zara ovviamente Zara sta alzando il livello tra abbigliamento e accessori veramente top dei top inchiniamoci a Zara perché sì è secondo me il negozio migliore con la qualità migliore con i prezzi il rapporto qualità prezzo migliore che possiate trovare in circolazione secondo me e vi faccio vedere allora la prima borsa l'ho presa con i saldi ed è della collezione primaverile ed è questa qui anche se secondo me è perfetta anche questa per l'autunno eccola qua che è scamosciata qui sopra il resto è di una pelle molto delicata bisogna ammettere pensavo che fosse leggermente più robusta si apre qui davanti si tira giù questa placchetta dorata e si apre così e dentro a parte la carta ci sono due scompartimenti qui dentro c'è una taschina con no non c'è una taschina ero convinta che sì però nonostante sia piccolina insomma non è una grandezza esagerata è molto molto capiente ha questo la tracolla che è giustabile secondo la lunghezza che preferite e l'ho presa perché mi ricordava molto la borsa di Chloe che ha veramente spopolato da inizio anno sapete sicuramente tutte di che borsa sto parlando lei ha la catenina la tracolla fatta a catenina al posto che di tessuto ed è veramente una delle borse più belle che io abbia mai visto però purtroppo ovviamente non ho 800 euro da spendere per una borsa del genere e quindi guardandomi in giro ci sono molti negozi molti brand che stanno facendo più di quella borsa e quando l'ho presa questa mi è sembrata una tra quelle che assomigliassero di più a quella borsa lì se non sbaglio ne ho visto anche una molto simile da Bigi Brigitte di Scugita quindi non so dirvi di preciso se lo sia ma anche su H&M ne trovate molto facilmente insomma è la heat bag del momento quindi non dovreste far fatica se volete prenderla ovviamente a un prezzo minore non dovreste far fatica a trovarla insomma una che sia simile e per ultimo è qua giù mi allungo è questo qui questo zainetto che è diventato l'amore della mia vita è veramente stupendo questa è della collezione nuova di Zara ha dietro come si chiamano questi non sono manici come si chiamano bella domanda le bretelle sì le bretelle in pelle nera questi sono questi dettagli con la catena che fa molto borsa e Chanel bisogna ammetterlo ha due taschine laterali che ammetto che ancora non ho mai utilizzato si chiude con questo qui davanti sempre la catena qui davanti si può stringere con questo cartettino qui e poi si chiude con due clip metalliche due calamite si chiude qui ed è molto capiente per quanto non sia grandissimo è molto capiente c'è una pitch sì c'è una tastina interna e vi giuro che da quando l'ho comprato lo sto mettendo praticamente tutti i giorni con qualsiasi outfit ci esco il pomeriggio ci esco la sera veramente lo metto tantissimo nonostante che il colore sia parecchio tunnale ma è un colore questo bordeaux è fenomenale e poi è bellissimo anche il fatto che sia trapuntato questa è una stoffa molto morbida sembra quasi raso è veramente fatto benissimo e sicuramente lo metterò finché morte non ci spari cioè lui verrà con me dappertutto questo inverno ve lo posso garantire sarà sempre con me e eccoci qua siamo arrivati alla fine di questo haul spero di non avervi annoiato spero che vi abbia fatto piacere rivedermi sugli screen di youtube mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un bel pollice in su iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento con scritto qual è stato il capo che vi è piaciuto di più del mio haul oppure che cosa avete comprato voi durante questi salvi estivi io non vedo l'ora di vedervi nel prossimo video che arriverà prestissimo e quindi vi lascio un grosso bacio ciao presto